per vedere il tempo e non è che devo telefonare era solo ok allora benvenuti so che con qualcuno di voi ci siamo anche perfino visti in passato lui sicuramente perché abbiamo fatto un lungo lavoro eccola lì un'altra alcuni sentiranno forse ripetere alcune cose ma è vero che ogni giorno che passa le capiamo in maniera differente quindi qualcosa di nuovo c'è sempre però focus della faccenda non abbiamo molto tempo quindi cerchiamo di portare a casa tutto il sapere che è possibile e il fuoco della faccenda è tornare a casa sapendo qualcosa di più su questa cosa che si chiama storytelling che fino a 15 anni fa dicevamo in tre sta parola e oggi è come sapete invece una parola che è continuamente in circolo dunque evidentemente c'è qualcosa che noi facciamo e molto lo facciamo in dosi massicce e che abbiamo deciso di chiamare così perché quando chiami qualcosa è come se lo isolassi e diventa qualcosa che tu puoi guardare puoi incominciare a studiare diventi consapevole di quella roba lì quando hanno dato la parola stress allo stress siamo diventati tutti stressati prima non eravamo sì ma tu lo isoli con una parola dai un nome e da lì poi a discendere noi incominciamo a studiarlo a capire le varianti a maneggiarlo proprio quindi la prima cosa è il nome e qui il nome è storytelling che poi in italiano vuol dire la narrazione ma noi usiamo proprio il termine americano perché anche questa volta gli americani sono i primi che hanno hanno isolato questa cosa l'hanno un po sfilata via e hanno incominciato a guardarla per cercare di studiarla e da questo poi è arrivata un po la categoria con questo nome diciamo in lingua inglese mentre per noi narrazione ancora anche molti altri significati insomma riverbera più ampio invece con lo storytelling andiamo più più dritti a questo tipo di di tratto della realtà allora io direi portiamoci a casa intanto due cose che sono proprio di base ma ma sono veramente utili per impostare correttamente la faccenda una è una corretta definizione di storytelling per capire quando hanno fatto il nome dove hanno circolettato così poi anche tra di noi non abbiamo equivoci sappiamo di cosa parliamo eccetera c'è questa definizione che è venuta un po fuori in anni di riflessione di dibattiti nella scuola olden che si occupa di narrazione esattamente e quindi un po tutti usiamo e per adesso non abbiamo ancora trovato una nuova è una definizione di che ha tipo tre quattro anni ma in realtà lei funziona ancora abbastanza e quindi io qui la ripropongo perché è un bellissimo punto di partenza e suona così serve per capire cos'è quando tuo figlio ti chiede ma papà cos'è lo storytelling ok ho una risposta e la risposta è questa sfilate via dalla realtà i fatti e quello che resta è storytelling ripeto sfilate via dalla realtà dalle cose reali da quello che accade dalla realtà dal mondo sfilate via quello che riuscite a definire come fatti è caduto un vaso sulla testa di mia zia e tutto quello che resta rispetto a quello che percepisci dici ti dicono quello è lo storytelling è una zona ok la la grande utilità di questa definizione è che vi aiuta a fare un salto mentale indispensabile perché vi colloca come vedete lo storytelling dentro la realtà cioè vi dice sostanzialmente questo che quello che è reale è composto di volendo riassumere è composto di due anime uno è il fatto e l'altro è quello che noi chiamiamo storytelling e poi adesso vedremo poi l'altro cos'è ma al tutto l'altro noi diamo questo nome qua storytelling e quindi quando noi parliamo di storytelling noi parliamo di un pezzo della realtà questo guardate è molto importante perché perché l'accosto diciamo istintivo più normale più standard delle persone al tema dello storytelling persone di ogni livello è differente cioè in prima battuta gli umani pensano che lo storytelling sia questo due punti c'è qualcosa che è reale e poi c'è una quantità di chiacchiere che si fanno sopra o di storie diciamo che servono per confezionarlo per renderlo più bello per farcelo piacere o al contrario per demonizzarlo per renderlo quindi c'è una cosa che è la realtà che è la verità dei fatti diciamo e poi c'è una tecnica una capacità di condire le cose bla 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 ecco su questa su questa linea con questo punto di partenza ve lo dico onestamente non si va da nessuna parte è come avere un fucile scarico bellissimo ma scarico non ottenete nessun risultato esiste naturalmente una sorta di abilità di capacità nella confezione delle cose esiste la possibilità di mentire quando torni alle due di notte dove sei stato ma niente sono rimasto chiuso nell'ascensore si può anche mentire naturalmente esiste questa roba ma ma non è di questo che noi stiamo parlando in questo momento questo è un altro pezzo della vostra vita la capacità di mentire oppure di dirla bene ma è un'altra cosa mentre invece lo storytelling non è un'aggiunta abile alla realtà è un pezzo della realtà ve lo dico proprio nella maniera più estrema fatti privi di storytelling non esistono cioè non sono reali ok d'altra parte uno storytelling senza i fatti non esiste cioè non è reale non è trovabile nella realtà non è una teoria campatinaria è una cosa che voi potete verificare su qualsiasi piccolo piccolo o grande grande esempio che voi avete quotidianamente io faccio spesso l'esempio di come siete vestiti in questo momento ognuno di noi sceglie come vestirsi al mattino sostanzialmente quando sceglie come vestirsi al mattino fa un'operazione di storytelling e guardate non è che voi siate qualcosa di reale a cui poi voi mettete sopra delle gonne dei pantaloni delle cravate come a indorarlo voi siete la vostra cravatta voi siete le scarpe che avete messo alle volte la scarpa che avete che mettete motiva e cambia il vostro modo di stare al mondo quel giorno quel giorno in cui vi mettete le scarpe rosse cioè fa parte c'è una parte di realtà non è che fate finta di essere uno che ha le scarpe rosse voi siete anche uno che gira con le scarpe rosse e lo siete soprattutto quel giorno e diventa molto reale il pezzo di voi che gira con le scarpe rosse quando vi mettete il cappello strano e tutti noi come vedete se vi girate tutti noi stiamo dicendo agli altri cioè stiamo indorando la pillola ma no stiamo dicendo chi siamo cioè il mio modo di vestire guardatelo mi vado a vestire ha una serie di messaggi ma non sto cercando di sembrare meglio di quello che sono sto cercando di essere quello che sono le mie scarpe sono questo tipo di scarpe molto discutibili ma è molto dentro come sono io cioè ho avuto la possibilità di sceglierle e quindi me ne sono scelte per una cosa che io sono uso un caso estremo perché anche se non è così allegro ma continuo a trovare che è il caso veramente più alla fine che vi fa capire davvero ecco succede qualcosa di orrendo nella vostra vita ok ed è qualcosa di reale di reale e il fatto vi colpisce dritti dritti il fatto ok e se ci pensate una delle delle reazioni che noi umani abbiamo è che lo diciamo anche diciamo la frase non ci credo non può essere vero in quel momento noi stiamo dicendo una cosa raffinatissima cioè stiamo dicendo finché il fatto mi arriva da solo senza uno storytelling io non riesco a vederlo reale non è reale non è reale e difatti poi noi riusciamo veramente a metabolizzare certe botte bestiali della vita quando riusciamo a fonderle in questo caso proprio in un racconto in questo caso è molto letterale cioè ricostruito una una genesi una cosa che è successa a quel punto lì diventa reale e allora continua a fare male però allora lo puoi no si può fare qualcosa prima è un incubo prima è come il sogno cioè non esiste veramente quindi lo vedete proprio nelle esperienze mi spiace farvi risalire a questo tipo di esperienza ma per andare dritti allo scopo andate a cercare all'interno delle vostre esperienze di dolore questa questa compresenza di fatti e storytelling all'interno di quello che chiamiamo realtà se voi partite da questo punto di vista vedrete che tu molti dei pezzi che vi fanno un po confusione si mettono improvvisamente a posto alcuni però vi guido io a prenderli accoglierli con tutta la chiarezza possibile posso aiutarvi aggiungendo un piccolo tratto tecnico che noi abbiamo capito noi umani e che siamo in grado perfino un po di gestire all'interno della realtà ci sono cose esperienze ambiti molto differenti e noi possiamo vedere la differenza su questa base c'è un bilanciamento fra fatti e storytelling diverso c'è alcuni pezzi della vostra vita in cui lo sbilanciamento è molto verso lo storytelling cioè il fatto è piccolo e lo storytelling è molto grande e ci sono altri ambiti della vostra esperienza in cui al contrario lo storytelling viene tenuto al minimo e i fatti invece vengono esibiti in maniera più scoperta allora è molto dubbio che in realtà questo sia vero ma è una cosa che appartiene al presentare le cose alcune cose vengono presentate con un bilanciamento verso i fatti altre cose vengono presentate con un bilanciamento verso lo storytelling facciamo un esempio gli economisti i ministri dell'economia quelli della BCE draghi ma a scendere fino non dico al bancario perché ormai il bancario lì è entrato molto storytelling ma diciamo diciamo l'alto funzionario di una banca ecco se voi studiate questi animali qua noterete come loro cercano di limitare al minimo il tratto di storytelling nell'illusione che vogliono dare che loro non sono lì a raccontare storie ma sono lì a esporre dei fatti numeri e questo lo riflettono anche su come si vestono sono impersonali draghi sapete che scarpe ha draghi ma non l'avete mai visto come si veste draghi non vi ponete il problema cioè lui non si veste non che venga nudo che sarebbe tremendo ma cancella ogni possibilità cioè lui dice no non troverete storytelling su di me se parlo di vestiti e continua così sistematicamente nel modo di parlare quando lo fa come si racconta cioè non si racconta non so se avete in mente foto della vita domestica di draghi io ne ho una una volta che l'hanno beccato e faceva la spesa ma pochissimo quasi zero vedete come si riduce no proprio al minimo 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 e si va tutto sui ci sono altri aspetti della vita in cui invece lo storytelling naturalmente è molto più è molto più urlante dei fatti andate al mercato entrate nel corridore delle frutte e verdura insomma il fatto c'è l'arancio 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 l'arancia 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 sì ci sono le differenze ma tutto il resto è storytelling tutto il resto c'è quello che grida la faccia che ha come sono impilati il prezzo che non è un fatto è storytelling perché 10 a 1 euro non la dice molto sui fatti la dice molto sullo storytelling e poi lì è tutto reale è tutto molto reale però quando viene fuori il mercante come forse vi avrà detto Oscar stamattina quando viene fuori il mercante l'equilibrio lui ha bisogno che l'equilibrio sia sullo storytelling è uno degli inventori di questa cosa e quindi lo sposta lo sposta il più possibile c'è l'illusione ogni tanto che ci siano cose che sono solo storytelling e non esistono fatti prendete Trump Trump europei con un'arroganza inaudita e per noi è un puro clown cominciare dai capelli lui al contrario sta sempre a fare storytelling solo i suoi capelli sono storytelling come già quelli di Berlusconi sono mercanti di valore altissimo non tralasciano nessuna cosa e quindi la tentazione di pensare che Trump è una pura menzogna basata su fake news eccetera una recita un clown totale naturalmente c'è ma non è vero naturalmente possiamo spostare il baricentro possiamo spostare quella tacca lì ma in realtà il potere di Trump l'elezione di Trump è basata su fatti su numeri su sentimenti collettivi su cose molto reali che a noi non piace ricordare ma insomma alla fine sembra un clown ma no anche lì voi vedete dei fatti naturalmente collegati insieme con dello storytelling e indubbiamente rispetto a Draghi lo vedete che però dovessi dirvi proprio tecnicamente il grado di storytelling che c'è in Trump è lo stesso cioè 75% nell'esposizione rispetto ai fatti 75-25 lo stesso di Obama stesso di Obama voi potete pensare poi vi piace l'uno vi piace l'altro ma Obama che è stato uno dei grandi inventori dello storytelling politico aveva la stessa percentuale e se voi eravate un meccanico del Nebraska vi assicuro che Obama vi faceva incazzare forte proprio perché lui sentiva il prevalere assoluto di un racconto su un rispetto dei fatti perché effettivamente in tutte e due l'equilibrio è spostato molto sulla narrazione all'estremo opposto un esempio classico è invece un tipo di oggetto in cui lo storytelling sembra essere stato buttato fuori completamente cioè completamente assente che è tecnicamente il referto medico quando fate la la colonoscopia e alla fine no c'è una e la se voi pensate alla prosa e voi vedete il grado zero di storytelling e d'altra parte è una situazione in cui teoricamente voi non volete sentire storie volete sapere se avete qualcosa quindi assoluto rispetto dei fatti non farmi perdere tempo con la poesia o con la infatti tecnicamente quelli che vendono quel prodotto sanno che voi volete questo in prima battuta e quindi riducono lo storytelling al minimo per cui il testo del referto non è salve bella giornata oggi d'altra parte è ancora più bella visto che lei non ha nulla nel suo colon però per quanto qualcosa abbiamo cioè non la dicono così come sapete la dicono in un linguaggio addirittura che voi non capite è talmente privo di storytelling che come fosse si raggruma su una specie di gergo inesplicabile anche tecnicamente la cosa vi viene porta in mail o in fogli di carta in cui apparentemente non c'è nessuna ricerca di quello del mercato che mette le arance belle in piramide no cioè sembra che ci siamo sfilati via da tutto e questo forse vi dà l'obiezione che esistono cose che sono che sono reali e in cui ci sono solo fatti lo storytelling l'abbiamo fatto fuori ma se voi andate dentro anche quell'esempio lì lo guardate bene con gli occhi sulla base di quello che vi ho detto e senza pietà comincerete a vedere delle cose cioè la prima è che quella carta comunque è intestata è la Villa Stuart e Villa Stuart cioè la clinica no un conto è Assel 14 un conto è Villa c'è già una differenza ok proprio nella confezione noterete che comunque ci sono delle accortezze più avete pagato più ci sono accortezze ve lo dico proprio chiaro e d'altra parte dopo che voi avete letto e di solito ho capito quasi nulla di solito si capisce se sei grave o no però i dettagli non so se avete visto non voi fate una cosa bellissima io faccio tutti facciamo una cosa bellissima e cioè di nuovo anche qui voi reintroducete lo storytelling perché se no non è reale e come lo introducete leggendo il referto al vostro medico o mandandoglielo e poi andando dal vostro medico e il vostro medico invece è come Obama come scegliete il vostro medico voi guarda 75% storytelling 25% fatti possiamo noi sapere se un medico è bravo ma però c'ha una certa faccia però c'ha un modo di porgere non so io ho due figli il pediatra solo sempre pediatra ottimista io non voglio pediatri pessimisti si dice si ma non è molto bravo non importa proprio mi piace uno chi io entro mi fa un ciancazzo dai cioè proprio vivo meglio anche un po' la figura la figura importa e le parole che usa le mamme ad esempio hanno questa singolare inclinazione a scegliere i pediatri belli non so perché però evidentemente sono momenti molto difficili quelli del figlio che sta male come voi sapete anche se non hanno innezie e in quel momento trovarsi davanti evidentemente è un belloccio gli credi di più vedete come reintroduciamo e nella telefonata in cui lui ci legge questa roba c'è moltissimo storytelling perché c'è medico e medico non c'è niente vada tranquillo bevi un po' quanto be' questo è un medico e hanno rilevato la presenza no dei piccolissime tracce però ognuno di noi sceglie quello che vuole ma sceglie in base a cosa abbiamo dei punteggi se no andremo tutti dallo stesso se è più bravo no ma introduciamo una parte della realtà che è fondamentale perché all'interno di uno storytelling ben fatto la gente guarisce la gente resiste di più al male la gente reagisce in un modo piuttosto che a un altro il referto è sempre lì il fatto è sempre lì però sai lo storytelling lo storytelling non è una roba che spalmiamo sopra per rendere un po' migliore il mondo no è un pezzo importantissimo della realtà da cui spesso dipende vita e morte felicità e tristezza fallimenti e buoni risultati concentrarsi infatti sui fatti senza concentrarsi sullo storytelling porta a perdere ma proprio guarda nel modo più ancora nel mondo in cui io sono cresciuto piccolino a dieci anni se tu facevi un sapone che era fatto veramente bene potevi pensare di vincere e ti proprio non ti interessava nulla della confezione del nome del racconto che facevi di questo sapone lo facevi il miglior sapone doveva vincere chiuso e ancora a quei tempi vinceva abbastanza ha incominciato in quel momento a cambiare tutto oggi c'è nessuna possibilità per uno che si è concentrato solo sui fatti di passare nemmeno i sedicesimi di finale cioè neanche il primo turno passa proprio zero quindi abbiamo imparato due cose per adesso la prima è smettetela se era così di collocare lo storytelling a lato della realtà o sopra la realtà o sotto la realtà mettetelo dentro è un pezzo della realtà ok poi c'è contare palle poi c'è quello più abile di altri ma è un'altra cosa qui stiamo parlando di una cosa molto più importante la seconda c'è una sorta di balance tra fatti e storytelling non è tanto una cosa che è inerente alla realtà vera ma al modo che noi abbiamo di proporla diciamo e questo noi lo possiamo scegliere lo scegliamo anche sulla nostra persona e naturalmente nel nostro lavoro ma perfino nella nostra figura di padre o di madre cioè anche proprio nella nostra vita quotidiana uno due aggiungiamone una terza perché fa fuori un altro un altro luogo comune che vi può far perdere molto tempo soprattutto gli ultimi arrivati sulla china dello storytelling quelli che sono si affacciano diciamo solo adesso hanno la tendenza a pensare che lo storytelling si risolva nel raccontare storie facciamo un esempio classico che probabilmente molti di voi possono capire anche meglio di me hai un'azienda ecco se sei capace a raccontarla siamo nati nel 1860 siamo da quattro generazioni nella stessa famiglia ecco se sei capace di raccontarla sarai più forte e quello è lo storytelling allora proprio veramente qui risparmiamo del tempo è vero che se sei capace di raccontarla hai qualche arma di più ok ma lo storytelling non è solo narrazione in senso stretto mio nonno ha inventato questo capo spalla non è solo quello anzi dovessi proprio dirvi la parte dello storytelling che coincide con una capacità proprio solo di racconto c'era una volta è abbastanza piccola cioè lo storytelling oggi passa di più attraverso cose che non sono c'era una volta siamo un'azienda venuta dalle montagne abbiamo attraversato c'è è una componente però non se voi fate la la sovrapposizione di storytelling e di quel c'era una volta la capacità di raccontare perdete per strada un sacco di potenza perché di fatto e torniamo all'esempio guardate lo storytelling che avete addosso i vostri vestiti non sono in nessun modo una storia alcuni ogni tanto ci sono dei modi di vestire che ti stanno raccontando una storia ma in generale non c'è un c'era una volta non è fatto da uno scrittore non è fatto da un narratore il vostro vestito è fatto da uno stilista uno stilista fa storytelling ma non scrive non scrive storie eppure fa storytelling ad altissimo livello altissimo livello un designer fa storytelling con una potenza inaudita ma non scrive due parole devono poi arrivare altri per cui noi dobbiamo ricordarci che tutto quello che diciamo sullo storytelling è riferito solo in parte alla capacità di raccontare e al gesto del racconto solo in parte c'è poi tutta un'altra parte che non è assimilabile alla capacità di racconto e al gesto del raccontare per cui ad esempio se avete un'azienda il fatto di di renderla un po' parlante di farla raccontare un po' nessuno aveva mai detto che voi siete stati i primi che hanno fatto il guanto con questa pelle particolare che resiste anche ditelo raccontatelo certo ma non è che con questo avete riempito lo spazio disponibile nella realtà per lo storytelling ne avete riempito una piccola parte ve lo dico perché ad esempio noi da scuola arrivano molte aziende a chiedere proprio quella aiutatici a mettere insieme lo storytelling e tutte si aspettano in verità che noi ascoltiamo la storia della loro azienda e poi facciamo non so dei video oppure una che bisogna fare cioè è giusto farli però poi quando noi guardiamo e diciamo certo sta carta intestata e cominciamo a rompere i coglioni perché siamo siamo lì per quello siamo fatti così e poi non so andiamo nelle c'è gente non so c'è gente che fa cose cose bellissime adesso vi faccio un esempio proprio perché mi colpisce molto c'è gente che fa cose belle cioè belle nel senso profittevoli ma anche che hanno un fascino pazzesco poi vai nei loro uffici e c'è la morte civile proprio c'è gente che fa prodotti che hanno una differenza dentro poi vai nei loro uffici e gli uffici sono più uguali c'è solo un messaggio cioè il capo sta nell'angolo o il piano più alto c'è le piante vetrate ma vecchia roba insomma ma tu entri proprio e dici ma dove è finita cioè tu hai in bocca la mentina che loro producono che hai scelto fra mille poi entri e dici ma potrebbero anche fare viti è uguale e quello cos'è cos'è quella roba lì storytelling perché quella roba lì viene respirata quotidianamente da tutti quelli che che lavorano lì tutti i giorni come fa a fare un prodotto differente uno che vive otto ore al giorno in un posto che non ha previsto l'esistenza di differenze se non gerarchico di stipendio non so quelle militari diciamo far capire chi è il colonnello cioè ma come come cioè io da giovane facevo il pubblicitario fatto per due anni e poi sono svenuto però due anni l'ho fatto e lì era una faccenda di creatività e andavamo nel mi accadeva di andare negli uffici della creatività di grandi aziende e io poi ero anche giovane quindi avevo più disponibilità a sdegnarmi e c'era proprio e tu ve lo vedevi che passavi dall'ufficio di quello che faceva non so contabilità trico 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 poi c'era una porta uguale altre aprivi e quelli devono essere creativi e lo erano perché in effetti c'era non so un paperino con una cornicetta dietro e così e io mi commuovevo perché era proprio sapete quando spunta dalla terra una pianticina piccola piccola però era chiaro che era la ribellione singola di quelli che si era messo il paperino dietro ma il sistema non prevedeva naturalmente che quando poi sono andato a visitare la sede di Google a Londra prima di aprire la mia scuola nella nuova versione per capire come facevano gli altri ed è proprio il contrario cioè l'azienda gli mette il paperino dietro li costringe a stare sulle sedie che gli fanno avanti indietro c'è il flipper da ogni parte proprio il contrario e comunque questi quelli avevano una lezione da impartire cioè alla fine per loro non c'è nessun dubbio che ci deve essere una coerenza assoluta di storytelling tra il prodotto che fai e cose incredibili come sei pagato come mangi tu che lavori per loro l'ambiente in cui lavori l'orario con cui lavori cioè non avrebbero il minimo dubbio che è tutto rotondo cioè non ha senso fare uno solo di questi gesti su cosa stanno lavorando stanno lavorando ad essere molto reali perché riempono praticamente quasi totalmente quella zona dello storytelling non lo lasciano trascurato vuoto stanze vuote dove sbattacchiano le porte lo riempono perché diventano realtà proprio realtà realtà quindi forza ok quindi primo e nella realtà non è fuori secondo c'è una sorta di bilanciamento terzo non perdete tempo a pensare che sia solo una questione di di storytelling nel senso c'era una volta dovreste vedere il menu della messa di google perché è uno dei casi di storytelling più più alto cioè tu lavori lì mangi così non hai nessuna possibilità al mondo di pensare che non sei il più figo dopo di che vai a casa che hai fame cioè non importa perché c'è una sola cosa che stai facendo stai stai semplicemente continuando a far riverberare una sorta di di doing della realtà che loro hanno determinato ma lo fanno in maniera molto naturale guardate non c'è un genio del male dietro cioè è ovvio che ma se voi siete cioè scusate se faccio un esempio riferito a me però noi a scuola siamo una scuola di storytelling di scrittura di altre cose però sostanzialmente di narrazione quindi non è che ce lo andiamo a cercare è la cosa che ci piace al mondo quindi ce l'abbiamo dentro e se tu entri in quella scuola lì ad esempio è tutto cioè per noi sono molto molto importanti cose che altrove non lo sono perché noi viviamo con una consapevolezza molto alta di quella parte della realtà che è lo storytelling per cui se c'è una scritta nella mia scuola è una scritta che non è casuale c'è una ricerca sui nomi ad esempio uno dei grandi storytelling al mondo è il nome dare i nomi e lì in quella scuola qualsiasi cosa sia nominata c'è tutta una roba dietro cioè c'è gente che ha quel talento lì alle volte è fantastico per bypassare proprio i problemi quelli vecchi che ci tengono indietro nomi nuovi scardi hanno abitudini vecchissime noi non abbiamo quasi nomi non so nell'organico e nell'organigramma ci sono quelli ovviamente che comandano di più quelli che comandano di meno però abbiamo tutti nomi strani il nostro amministratore delegato che quando usciamo diciamo il nostro amministratore delegato ma in realtà da noi si chiama il coach cioè lui dice ma hai sentito il coach ok voi dite una stupidata mica tanto perché corrisponde proprio a un mestiere diverso a poco a poco cioè lui entra in una stanza e fuori si dice coach mille volte che ci entra lo capirà cosa fa nella nostra azienda io che ho un ruolo molto difficile perché hai il fondatore quello famoso cioè il preside ragazzi il preside salve adesso anche alcuni nostri clienti o gente con cui lavoriamo le preside cioè pensate un mondo di nomi come costruisce comunque e come il calcio barilla di google o quelle cose lì ok abbiamo portato a casa queste tre cose tiriamo fuori ancora una come fosse una conseguenza che vi può essere molto utile se le cose stanno così aggiungiamo il quarto punto se le cose stanno così lo storytelling in nessun modo è una cosa che tu puoi aggiungere in un secondo momento questo è tipico dei prodotti a un prodotto non si può dare uno storytelling un prodotto deve nascere con uno storytelling non c'è nessuna possibilità anche il più bravo che arriverà non c'è nessuna possibilità di dare uno storytelling significativo considerevole a un prodotto se il prodotto non è stato concepito da gente che sapeva raccontare non è stato immaginato da gente che sapeva che la realtà è fatta di storytelling e di fatti non c'è veramente la possibilità se fai se fai inventi un prodotto senza storia non la raddrizzerai mai più questo non ho proprio dubbi quindi mettete nell'ufficio che inventa i prodotti il narratore non a quattro porte non è un altro lavoro è proprio da dentro che parte tutto questo non c'è possibilità di convertire un prodotto senza storia a essere un prodotto che riverba la storia e analogo guardate è difficile quanto ad esempio convertire un timido in un una persona timida a convertirlo in una persona che va su un palcoscenico e a lei e strega in un intero teatro ecco cioè proprio non è nella sua natura lo puoi migliorare gli puoi dire due o tre cose respira guarda il pubblico ma non diventerà mai ecco a fronte del prodotto è così lo puoi migliorare lo puoi sei un pochino meno ma ma se non nasce se non nasce con questa vibrazione nasce che non è reale e la gente non lo comprerà cioè proprio no no uno due tre quattro cioè uno due tre e poi questo diciamo corollario che però è molto utile proprio tecnicamente soprattutto nella vita delle imprese immettete il talento per la per la narrazione per lo storytelling dal primo momento guarda c'è c'è una cosa che che voi potete notare in alcuni che hanno nell'imprenditoria quelli che hanno particolare talento in direzione dello storytelling sono persone che potrebbero che sono capaci di fare questo fare una cosa solo perché hanno trovato un bel nome per quella cosa proprio il contrario ne avete visto uno prima Oscar è così ma anche io sono abbastanza così nella mia vita di imprenditore e al contrario se di una cosa non mi viene il nome mi possono dimostrare che funziona c'è qualcosa che non va ieri sera ero insieme a due sudamericani la mia scuola adesso apre in Spagna apre in Sud America e ero seduto davanti a una bottiglia di vino perché non si può fare senza vino me l'ha insegnato Farinetti quindi bisogna fare col vino e lì il prodotto è una specie di seminario che noi andiamo a fare in dieci posti diversi del Sud America con un grande sponsor X diciamo che sia Coca Cola non è Coca Cola però siamo Coca Cola e c'è tutto un piano e questa cosa non mi convince ok cioè si però la logica cos'è che mi manca mi manca che non lo vedo non vedo non vedo il nome cioè ho bisogno istintivo di essere sicuro che sta roba c'è un riverbero di storytelling e il modo più infantile è ma il nome com'è mi dicono un nome e io proprio mi sento crollare tutto e allora e allora proprio piglio due uno è un poeta l'altro è uno scrittore che conosco sudamericani li invito metto il vino e poi incomincio e gli chiedo ditemi andate a tema libero su scuola classe loro incominciano con le parole blam 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 incominciano le parole io non lo sento poi a un certo punto clic ne sento una dico ma questo cos'è cosa dite con questa parola e non mi importa in quel momento cosa significa il suono il suono è il riverbero puro cosa sto facendo in quel momento c'è un fatto perché questi seminari sono fatti molto bene li conosco ne ho fatto anche uno io cioè il fatto è a posto ma non c'è l'altra parte e quindi non è reale per me e parto dalla cosa più semplice il nome perché quando io becco il nome automaticamente me lo vedo scritto sento un ritmo proprio prima ci deve essere olden poi sopra c'è questa roba grande che deve essere spagnolo che suona bene e poi sotto 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 quindi tan pam pam è un ritmo tan pam pam finché non mi portano sta roba o io la trovo quella roba lì non si fa ragazzi da noi è così poi mi rendo conto che se uno all'Enel è differente però però infatti andiamo a prendere il piccolo esempio andiamo a prendere il piccolo esempio ieri sera verso le 11 ho trovato questi nomi c'ho il ritmo suona ho tirato sul telefono subito tra quello che lavora con me su sta roba ho detto ce l'ho e da lì a scorrere perché tu sei sicuro poi da lì in poi lo storytelling scorre ecco non è che però vedete che nel momento dell'invenzione soprattutto noi che abbiamo una sensibilità più alta naturalmente per lo storytelling non riusciamo proprio a concepire che non vadano insieme cioè che non girino insieme ci viene proprio a mancare ok adesso un attimo di concentrazione di fatica supplementare mentale perché abbiamo bisogno di prendere tutta questa queste quattro cose tre più una che abbiamo imparato e immergerla nel liquido del tempo in cui viviamo è una è una sorta di 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 chimica proprio e qui non è semplicissimo ma ci proviamo tutto questo vale e valeva anche quando io sono nato nel 1958 tuttavia negli ultimi 40 anni e in Italia diciamo proprio tecnicamente negli ultimi 20 è accaduta una cosa che chiamiamo rivoluzione digitale che ha cambiato il modo degli umani di stare al mondo come sapete io ho dedicato un libro a questo tema qui quindi potrei stare qui otto ore ma in realtà adesso dobbiamo portarci a casa solo un pezzettino un pezzettino e ve lo dico in una maniera più semplice abbiamo generato una nuova civiltà nel giro di 40 anni rassegnatevi non è che abbiamo cambiato qualcosetta no noi stiamo al mondo in modo diverso e definitivamente staranno al mondo in modo diverso quelli che sono nati già in questa civiltà quindi sostanzialmente quelli che hanno sotto i 15 anni oggi ok ma forse quelli ancora più piccoli diciamo il primo grande smartphone iphone è del 2007 ecco se tu diciamo almeno ecco quelli nati prima già non sono esattamente dei nativi ok buon tra le tante cose che abbiamo cambiato in questa nuova civiltà abbiamo cambiato cercate di capirmi ma soprattutto cerco di spiegarmi il tipo di densità della realtà cioè rispetto alla civiltà precedente quella del novecento e dell'ottocento la densità media del vivere della realtà diciamo della realtà della realtà la densità media è di molto ingentilita cioè un mondo meno denso vuol dire che mentre prima per far passare una cosa da qui a là dovevo attraversare una fortissima resistenza questo è un mondo a minore densità cioè la cosa attraversa con minore frizione è tutta una civiltà studiata per ridurre ovunque possibile la frizione del reale cioè rendere possibile che idee persone denaro merci possano muoversi non dico in assenza di resistenza ma quasi pensate alla lettera che noi scrivevamo e tutto il percorso che faceva e pensate alla mail cosa è che cambia sostanzialmente la densità dello spazio che attraversa pensate a me che vado in libreria compro un libro e me lo porto a casa e pensate io che lo compro da Amazon cosa è che cambia un sacco di cose ma in prima battuta cambia una sola cosa cioè che la densità del mondo è differente pensate a come arrivavano le notizie il giornale al mattino inoltre il giornale alla sera e come arrivano adesso subito nel telefonino cosa è che cambia la densità ok quindi per ragioni che non abbiamo purtroppo oggi tempo di approfondire abbiamo scelto collettivamente di esistere in una realtà a minore densità ok in automatico è diventato un valore la velocità finché c'erano muri e tutto era di pietra la lentezza era normale c'era la regola non potevi che andare andare lento perché c'era una densità della realtà molto alta quindi alcuni più veloci riuscivano però il margine era piccolo se tu scegli di vivere in un sistema a bassissima densità tutti incominciano a partire e tutti incominciano a muoversi prima molti stavano proprio fermi pensate al denaro pensate quanto denaro stava fermo prima pensate quanto denaro ha messo in circolo semplicemente l'avvento del bancomat per dirvi ok il bancomat è una specie di pre-intuizione di quello che sarebbe stato il digitale però adesso la banca è online pensate immaginatevi proprio la banconota che prima stava ferma e adesso comincia a viaggiare il numero di cose che si è messa in movimento in un contesto del genere tu non puoi pensare più di vincere perché sei quello che è più privilegiato più ricco più potente ha più strumenti ha più mezzi perché in realtà qui vince chi è più veloce cioè chi fa più chilometri diciamo in un certo tempo o spazio quindi il saper penetrare in questa bassa densità è diventata la tecnica di sopravvivenza più utile quella decisiva diciamo ok non so dirvelo meglio se non in questo modo vince quello che è aerodinamico mentre prima dovendo far fuori un muro vinceva quello che era più massiccio quello che aveva più cioè quello che andava a sbattere bam bam tre volte bam giù il muro adesso il muro non c'è c'è una specie di sostanza fluida quello arriva con tutta la sua potenza e cosa fa? è lento bam bam e da destra da sinistra gli schizzano via dei robini che cosa hanno? sono aerodinamici dice si però porta meno roba addosso non importa si tu ne hai di più ma sei qua guarda dove è già arrivato quello è andato avanti e indietro zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz non dico che porta tante cose come te ma tu non sei proprio mai arrivato non sei proprio mai arrivato quindi la lotta quotidiana sapete la gazzella che esce il leone che esce al mattino e incominciano a correre tutte e due ecco, oggi la lotta quotidiana sotto ogni profilo è questa cioè chi riesce a penetrare nella bassa densità di questo sistema con una postura aerodinamica più efficace è tutto un problema di aerodinamicità vi faccio un esempio che viene molto discusso ultimamente cioè le notizie prendiamo la notizia come merce, prendiamo la notizia come oggetto come volete, però adesso isolatela da tutto il resto prendete la notizia ogni mattina, ma in realtà la mattina non vale più come riferimento, ogni minuto partono parte un certo numero di notizie al mondo e tutte hanno un solo scopo, salire in superficie dove c'è l'attenzione nel mondo hanno solo questo da fare solo questo ok e sono molte quando ero piccolo non erano molte il Tg1, unico telegiornale in Italia in quel momento la notizia del Tg1, con quale altra notizia doveva combattere? probabilmente con la notizia dell'unità giornale non aveva altri telegiornali sì, partivano in tre o quattro partivano in tre o quattro in un sistema bloccato di muri per cui chi vinceva quello che aveva più soldi sostanzialmente bam quello che dava la spallata dura oggi le notizie sono tantissime di ogni tipo e partono tutti insieme in ogni minuto pensate che mestiere bestiale non so se c'è qualcuno che fa business con le news ma il mestiere difficilissimo è diventato difficilissimo infatti io i giornalisti me li ricordo quando ero giovane che ho iniziato a vent'anni i giornalisti erano persone rilassate dovevano giocare a bocce oggi sono fuori tutti è una roba è un mestiere micidiale proprio no? partono tutte e tutte murano allo stesso punto cioè partono da sotto perché sopra non ci sono molti posti la gente ha molta attenzione da dare ma non tantissima quindi ci sono delle caselle partono in mille e ci sono cento caselle e come fanno? chi se le piglia quelle cento caselle? se le piglia quello che ha il fattore aerodinamico migliore guarda non c'è santo e adesso vi faccio vedere cosa succede partono tutte insieme e adesso noi ne becchiamo proprio le vediamo le isoliamo per un attimo blocchiamo e ce n'è una che è la notizia non esiste mai veramente però la notizia è che proprio dice la verità cioè Alessandro Baricco si è recato alle 14.10 a Roma all'Euro a parlare a non so mettiamo che voi veramente siate 200 non so a 200 persone questa è proprio la verità ok? parte di fianco ce n'è una imprecisa Baricco è andato a Roma a parlare Baricco è andato Baricco è andato a Roma a parlare e poi non so ti aggiungo non so ai 300 manager più influenti d'Italia ok? partono una è più vera l'altra non è che sia proprio falsa ha delle imprecisioni ok? partono e quella vera incomincia a perdere metri subito subito perché non è aerodinamica perché tu cosa vedi una notizia così che io alle 14.10 togli il 14.10 Baricco è a Roma riacquista velocità meno precisa ma ci serve il 14.10 intanto l'altra che vede recuperare la vera un pochino deve aggiungere qualcosa Baricco per la prima volta parla a Roma tra tre è falso non importa vediamo cosa arriva fuori alla fine del processo sostanzialmente una notizia vera perde tutta una serie di tratti che sono verità accetta tutta una serie di imprecisioni in cambio del fatto di riuscire ad arrivare in superficie quando arriva in superficie arriva in esatta ma arriva fra le prime 100 quindi la gente dà un'occhiata e in quell'occhiata cosa percepisce che io ho parlato a Roma a un gruppo di manager che sostanzialmente è vero ok ma se io volevo farlo arrivare che io alle 14.10 con 10 minuti di ritardo ho parlato nessuno saprebbe che questo è accaduto proprio moltiplicate questa cosa per 100 perché ormai quella è un'arte è uno sport pazzesco e voi vedete cosa significa acquistare in aerodinamicità e quindi in velocità perdendo in precisione e accettando di perdere in precisione vi faccio un esempio perché tutto questo viene proprio dall'ideologia del game cioè dall'ideologia del sistema noi costantemente in questo mondo qua cosa che non si faceva nel 900 noi costantemente in questo mondo barattiamo un pezzo di verità o un pezzo di qualità se ci danno in cambio possibilità di movimento e velocità lo facciamo costantemente noi saremo ricordati come gli umani che hanno deciso di fare così e vi faccio un esempio che voi tutti vivete ogni giorno c'è un formato che si chiama mp3 è un formato musicale l'avrete sentito parlare di questa roba è un formato compresso è una forma di compressione cosa significa? che se voi prendete una canzone di Elvis e la digitalizzate la traducete in un certo numero di cifre diciamo molto semplicemente di numeri ok? di 1 e di 0 buon quantità molto alta di numeri che vengono praticamente presi dalla macchina e poi ritradotti in suono quando vi pare schiacciate play lui c'ha dei numeri che traduce in suono e voi vi sentite la canzonetta di Elvis Presley ok? ci siamo? bene in queste canzonette di Elvis Presley ci sono un numero x di 1 e di 0 molto alto molto molto alto cosa vuol dire? che rispetto all'LP presa AVA naturalmente è più leggero ma è comunque un numero di numeri molto molto alto e quando noi umani abbiamo messo a fuoco questo sistema ci siamo resi conto che poi se io volevo mandare a te la canzonetta di Elvis Presley tu dovevi aspettarla cioè quella scaricava vi ricordate il periodo in cui si scaricava? perché? c'erano molti numeri un gruppo di europei italiani compresi in testa inventano il formato mp3 che fa questa cosa geniale si spalma davanti agli occhi tutti gli 1 e gli 0 della canzonetta di Elvis Presley la mette in loop e continua a sentirla e poi incomincia a togliere delle cifre toglie toglie incomincia a togliere dei numeri che corrispondono a dei suoni che gli umani non sentono il cane sì ma voi no togliamo e vado in economia compresso tutte le volte che tolgo comprimo e quello lì che era grande così tolgo, tolgo, tolgo comprimo quello mi diventa sempre più piccolo continuo ad andare avanti a togliere cosa sto togliendo? suono eh quindi sto togliendo qualità continuo a togliere continuo a togliere fino a quando tolgo degli 1 e degli 0 e proprio sento ma che schifo allora li rimetto e lì mi fermo comprimo quello che era grande così e grande così a quel punto e poi vado dagli umani e gli dico ok ho due versioni possibili una senti il suono perfetto vuoi mandarlo alla tua fidanzata? ti durerà 5 minuti l'altra il suono è così così vuoi mandarlo alla tua fidanzata? tempo 0 scegli e noi in continuazione abbiamo scelto ok era bello il suono però dammi questa roba track se voi avete nel vostro telefonino tutta la musica del mondo perché l'avete incredibilmente e non solo per ascoltarla ma per inviarla in tempo praticamente piccolissimo è perché tutta la musica che voi avete fa schifo da un punto di vista qualitativo è indecente ma è ascoltabilissima ed è molto meglio mandare una cosa con una qualità così ma mandarla in giro per il mondo che tenersi un LP sotto il braccio per tutta la vita non so se vi ricordate quando quelli più quelli che hanno la mia età diciamo quando si faceva la cassetta per la fidanzata con le canzoni che ti piacevano una settimana di lavoro una cosa un inferno registrare trasferire poi gliela davi due giorni dopo gliela già con il nastro così una roba e che poi la qualità non era neanche ma era maggiore della mp3 questo è pazzesco nelle cassette c'era una qualità di suono che era maggiore di quella della mp3 e adesso tornate alle notizie stessa scelta volete una notizia subito proveniente da qualsiasi parte del mondo magari un po' imprecisa non stiamo parlando del fake news che è un'altra cosa però stiamo vagamente più imprecisa o volete la notizia vera ma quella crunk 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 e abbiamo scelto perché eravamo riduci dall'esperienza del novecento in cui le notizie erano di pietra erano dei muri e hanno prodotto quello che avete visto abbiamo capito che se tu irrigidisci le informazioni tu blocchi il mondo e rischi il disastro rischi due guerre mondiali rischi la bomba atomica rischi la cortina di ferro rischi la guerra fredda rischi il totalitarismo quando le notizie per spostarle ci vuole un tir tu praticamente consegni consegni il mondo in mano ai muscolari cioè ai potenti ai ricchi chiuso allora hanno detto sai che c'è? adesso facciamo delle notizie che ci hanno peso zero e dice sì però ce ne arriveranno milioni meglio perché chiunque la può tirare chiunque anche quello anche il nemico anche quello stupido naturalmente però abbiamo accettato come abbiamo accettato l'MP3 cioè l'abbiamo inventato ce lo siamo procurato e l'abbiamo adottato non appena possibile in un mondo così qual è la capacità che premia? esattamente la capacità dell'MP3 cioè perdo il minimo della qualità necessario ad assumere il massimo dell'aerodinamicità utile oggi vince chi è un genio in questa pratica qua sostanzialmente e quelli che riescono a perdere pochissimi punti di qualità e a guadagnare moltissimi punti di velocità aerodinamicità chiudo il cerchio cos'è che dà alle cose aerodinamicità lo storytelling per questo siamo qui a parlarne lo storytelling anche 80 anni fa c'era la realtà è sempre stata composta di fatti e storytelling il fatto è che in questa civiltà qua per il tipo di densità che abbiamo scelto proprio la capacità aerodinamica delle cose è diventata oltremodo importante e da subito abbiamo capito che alla fine un peperone era un peperone aerodinamico cosa faccio affilato un peperone un peperone dov'è che diventa aerodinamico in questa bassa densità del game nella sua parte di storytelling certo nel fatto posso lavorarci una roba che si consuma più velocemente ma alla fine quello che ti dà velocità è tutta quella parte che noi chiamiamo storytelling quindi nella maniera diciamo più contemporanea più aggiornata la vera definizione di storytelling è tutto ciò che dà agli oggetti in questo sistema un alto profilo di aerodinamicità certo ad esempio raccontare la storia dell'azienda ti rende un po' diverso cioè dici ah sì sono quelli là che hanno la vigna più alta d'Europa ti piace cioè memorizzate l'aerodinamicità di questo tu produci un vino e dici è fatto nella vigna più alta d'Europa non importa neanche che vino sia se è buono o cattivo hai già superato tutti passato poi se il vino fa schifo ripiomberai giù ma in quel momento vedete come sei con il storytelling è fatto hai la vigna lassù ed è storytelling lo dici poi lo dici in un bel modo lo dici nel momento giusto quella è proprio tutta tecnica però alla fine hai fatto una cosa quindi quello che era comunque un tratto della realtà quello che comunque anche prima gestivamo in qualche modo cercavamo di capire diciamo che da 20 anni questa parte con l'avvento del game è diventato il focus dell'attenzione collettiva perché coincide con la capacità e con l'abilità che premia coincide con la gazzella che ce la fa diciamo per questo in tutti i nostri organismi stiamo stiamo tutti lavorando a aumentare l'organismo che è capace di produrre storytelling certamente continuiamo a produrre dei fatti migliori possibili ognuno nella sua azienda ognuno nella sua cosa noi facciamo scuola stiamo mille volte a pensare l'insegnante il corso che facciamo cioè i fatti sono ovviamente parte della realtà ma tanto più in questo momento l'attenzione è spasmodica quasi per lo storytelling quindi deve entrare da subito come vi dicevo proprio nel tessuto di quello che noi facciamo non abbiamo altre possibilità per arrivare primi secondi terzi anche decimi insomma ed è triste sai quando tu fai una cosa ben fatta e proprio non cioè parte ma non arriva mai è brutto e non è una cosa che bisogna non deve accadere non deve accadere se accade perché ci siamo un pochino bloccati su questa roba dello storytelling smuoviamola andiamo andiamo via cioè viviamola cerchiamo di capirla in termini contemporanei che ci possono essere utili ok è molto poco mi rendo conto sapete ci vogliono mesi per per veramente andare dentro queste cose qua però insomma qualcosa ci portiamo a casa mi pare credo che abbiamo un po' di tempo non tanto ma forse per per un paio di domande grazie stanno arrivando sì sì allora mandateci le domande stanno arrivando beh io te ne farei una io intanto se mentre una delle cose più belle che ho letto delle tue è stata una recensione a un libro grazie su zio paperone fatta sui fumetti poi mi viene da dire che una delle trasmissioni televisive più belle che ha fatto è stata Totem uno dei saggi più belli che ha fatto è stato I barbari secondo me tema uno mi piacciono le cose che fai ma questa non è importante due i fatti per stare la tua definizione che ti contraddistinguono sono tanti e differenti quindi qual è la realtà che il tuo storytelling personale costruisce su questi fatti domanda non l'ho capita manco io però è forte vedi a dare definizioni complesse anche lì ci vorrebbero delle ore però non so io avevo questo istinto fin da giovane di muovermi come vi ho detto come vi ho detto prima voi poteste fare difficoltà a scindere dov'è dov'è il fatto dello storytelling proprio ad esempio in una cosa che quando io ho iniziato non esisteva cioè io lo dico in termini brutali vendevo un'unica cosa che era come stavo al mondo i libri che scrivevo quello che facevo come parlavo eccetera cioè la fine dello scrittore puro che c'era quando io sono arrivato non sono l'unico però la mia generazione è stata la prima che ha incominciato a presentarsi non come lo scrittore puro cioè Calvino la gente ne aveva mai visto in faccia per dire andava in radio parlava malissimo in televisione un disastro non aveva mai fatto nient'altro che quello faceva un po' di giornalismo ma faceva quello e dalla mia generazione in poi è nata una roba che è diversa in cui contava anche come ti vestivi ecco io sono andato in televisione dato che avevo caldo non ero con la giacca ed ero con le maniche arrotolate ha fatto di più questo che qualsiasi parola che io abbia detto storytelling perché la gente in cui la televisione era era abituata che se uno parlava di musica classica aveva almeno 65 anni un paio di disturbi anche pesanti diciamo per cui anche solo il fatto dell'età che io avevo io avevo tipo 34 anni me dimostravo anche un po' meno e quello era il messaggio principale cioè musica classica gente giovane musica classica non ha ancora aperto bocca per cui mi dico come è molto difficile sai il fatto lì dov'è è veramente il tipico prodotto in cui fatto storytelling sono una realtà e non fai perfino fatica a sfilare via allora leggo qui una delle domande che sono arrivate come si crea lo storytelling di una persona di un altro di te stesso diciamo di un altro dai di un altro e niente non puoi attaccarli niente devi guardarlo vedere come si muove zoppica ok zoppichi vediamo di fare questo zoppichio qualcosa ti piace o non ti piace no mi vergogno non vergognarti zoppica provo un po' fammi vedere comunque la cosa più forte è che sono i fatti cioè lo storytelling deve suonare insieme ai fatti inutile che tu cerchi di fare di me un giocatore di basket un altro 72 mi inquadri dal basso allora sono alto si guadagno un 2% ma non è quello quindi in generale partire dai fatti e usarli bene e poi farli risuonare i fatti sono belli c'è tante cose anche i fatti apparentemente scomodi invece lo storytelling è del geniale nel riuscire a far risuonare le cose agghiaccianti lo si può fare è una bellissima operazione però è inutile inventare qualcosa su uno che non lo è guarda cos'è e farlo risuonare Marlo l'operazione di Totem con Vaci sia stata un'iniziativa televisiva importante che parlava di bellezza di radici e di ciò che da sempre caratterizza l'essere umano la creatività come si può alimentare e allenare questa capacità unica e salvifica secondo me più di ogni altra cosa vale l'esempio infatti Totem era fatto molto per quello cioè la gente delle gente ragazzi la gente la gente a un certo punto si deve girare e uno in maniera molto aerodinamica molto aerodinamica fa quel gesto e la gente la guarda e dice cazzo come mi piacerebbe fare sto gesto e magari il gesto è leggere magari il gesto è recitare una cosa magari il gesto è suonare su un piano forte magari il gesto è essere gentili voilà e non guarda più di qualsiasi scuola formazione impegno politico alla fine tu vedi una roba e quello entra nel tuo sistema percettivo ecco io mi ricordo di aver visto una volta di improvviso giocare a rugby da vicino non esisteva rugby per me sapevo che c'era ma proprio come la gente sa che ci sono i libri ma non e un giorno mi è accaduto di finire vicino a della gente d'altissimo livello proprio i più bravi del mondo e vederli a 10 metri e non è che mi sono messo a giocare a rugby però rugby è entrato dal mio mondo in quel momento tac esempio cioè tu lo vedi e così e così anche per i nostri i nostri i nostri mestieri senti mi veniva in mente prima tu parlavi della scuola quindi sei a contatto anche tu con questi nuovi panda che sono i giovani a me quando ne parlo bene mi guardano come se fossi uno che non ha capito che non si rende conto invece io ho un'ottima opinione dei ragazzi penso che siano prendo tutte le idee buone dei barbari che gente che va sulla superficie sono veloci sono aperti a me piacciono un sacco tu come la pensi cioè mi sbaglio io o si sbagliano quelli che quando ne parlo bene mi guardano strano io penso che i pirla ci sono sempre ci sono anche adesso c'era quando ero giovane e basta questi hanno una brutta reputazione ma presso chi hanno una brutta reputazione presso quelli delle generazioni più vecchie di loro tra di loro invece non si stimano sono chiaramente più brillanti di noi chiaramente hanno un'intelligenza di tipo nuovo quindi ci dà fastidio da lì nasce questo luogo comune però è evidente che sono più svegli ma anche il babbeo è più sveglio del babbeo della mia generazione questo è il problema perché perché il babbeo ha comunque visto una quantità di cose ha ricevuto una quantità di informazione aveva dei cioè ha dei giochi il babbeo si sfrangia il cervello con dei giochi di una vivacità brillantezza che rispetto ai miei veramente dici ma ma che cioè ma e non è che nella nostra lentezza nella nostra cosa elementare poi albergasse questa possibilità di saggezza di sapienza cioè credetemi non è che quando non c'erano i voli low cost non andavamo in giro per il mondo ci ha reso migliori questo io ve lo dico sinceramente no non ci ha reso migliori il fatto di avere molto più tempo per stare a casa invece che ad Amsterdam no sono migliori quelli che sono stati ad Amsterdam poi c'è il turismo mordi e fuggi non approfondiscono ok io stavo a casa andavo in bicicletta agli scout e tornavo oh ma vogliamo parlarne veramente ma vi giuro che non è erano belle camminate in bicicletta può anche darsi che un paio di volte questa sorta di tempo e di spazio abbiano generato in me nei miei amici una forma di intuizione di sentimento più profondo può anche darsi può anche darsi ma so qualche volta ecco dopo di che io sono salito su un'aereo per la prima volta 20 anni ragazzi ma si può adesso non si può pensare non si può vedere quindi è ovvio che sono più brillanti sono più brillanti e se scoppia un incendio in questa sala credetemi guardate quello giovane seguite lui non me ok bene l'ultima domanda se lo storytelling di un prodotto non viene compreso e i consumatori creano un'antinarrazione intorno ad esso si parla ancora di storytelling? sì buonissima domanda non solo le notizie partono ogni mattina ogni minuto anche molte narrazioni partono ogni minuto prendiamo un caso mio la Olden è una scuola di fighetti tanto la scrittura non si può insegnare questa narrazione parte insieme alla mia ogni mattina ogni ora che Dio manda in terra e non devo non è falsa non è vero è un'altra narrazione e io ogni giorno devo correre più veloce di lei chiuso non c'è nessun altro non posso lamentarmi devo correre più veloce di lei fine se perdo cento volte su cento mi fermo mi guardo guardo i miei e gli dico ragazzi temo che noi siamo una scuola di fighetti e che la scrittura non si possa insegnare e cambio prodotto ma cento volte parto e cento volte e di fatto se ve lo dico io parto ogni minuto e noi più o meno alla Olden su questa storia qui credo che arriviamo primi 60-70 volte e 30 volte arrivano primi loro cioè proprio nella percezione comune